Nei giorni scorsi si è tenuta in prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Michele Formiglio, alla quale hanno partecipato oltre ai vertici delle forze dell'Ordine anche il sindaco di Verbania e il presidente della provincia. La riunione è stata dedicata ad una approfondita analisi sulla base dei reati del 2023 appena trascorso. La situazione generale della sicurezza presenta un quadro ampio... Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone Tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.